È necessario abbandonare i luoghi comuni, uscire dalle proprie certezze ed essere presenti nella società come lievito che nel nascondimento fa fermentare le idee indispensabili per cambiare una società che ha bisogno di persone semplici ed appassionate, umili e nello stesso tempo potenti. Questo in sintesi il messaggio lanciato ieri dall'auditorium della Gran Guardia da Don Adriano Vincenzi al termine della quarta edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, un momento di festa, di incontro, di relazione per una crescita individuale e comunitaria. Che parlano ce ne sono anche troppi. Bisogna che mettiamo insieme gli uomini di buona volontà che incominciano a fare i fatti. Tutto qua. E questo creerebbe la differenza. Io credo che il Festival, sotto questo punto di vista, ha mandato un grandissimo segnale perché ha evidenziato, è il discorso che ci occorre, un pensiero ci occorre, ma ha evidenziato molto anche esperienze significative di giovani e non giovani. E sono questi fatti che riescono a ricostruire la speranza, a darci fiducia, a dirai anche un po' di più, a darci anche un po' di serenità perché io il Festival lo intendo anche un po' come una festa. Tanti momenti salienti di questi quattro giorni in Riva Ladige, a partire dal videomessaggio del Papa che ha inaugurato i lavori, poi la presenza del segretario generale della CEI e poi i ministri dell'ambiente Galletti e del lavoro e delle politiche sociali Poletti, senza dimenticare i tanti ospiti che si sono alternati ai tavoli di discussione, ai tanti volontari e soprattutto alle tante persone che ogni giorno in sala sono state protagoniste della manifestazione. Che fa grande questo festival sono le persone e non penso che vengano ad ascoltare qualcuno, vengono per condividere una idea, per condividere una ipotesi di impegno e per ritenere che la speranza e il futuro si costruisce lavorando su una coscienza retta, su un impegno sociale come scelta. Questo per me è davvero la novità, perché i discorsi costano poco, se ne fanno tanti, invece andare a toccare le convinzioni delle persone è l'aspetto più problematico. Mi sembra che questo festival dica questo, abbiamo persone convinte di poter costruire, dare un grande apporto per dare speranza e per costruire la nostra società.